A Belluno è scoppiata la polemica. Sono in molti tra gli esercenti di bar e ristoranti della piazza a lamentare la posizione di Palazzo Rosso, che torna a richiedere i 2,70 euro al metro quadro per l'occupazione del suolo pubblico, originariamente concesso per fronteggiare la pandemia da Covid-19 e che di fatto porterà alla rimozione di numerose sedie e tavolini per le consumazioni all'aperto. D'altro canto, la visione dell'amministrazione, riferitaci dall'assessore e vicesindaco Paolo Gamba, è quella di un centro storico più sobrio, con de oro uniformati e meno tavolini disposti selvaggiamente, dove ordine è sinonimo di bellezza. Una posizione che non sembra però essere condivisa nemmeno da molti cittadini. Allora togliono tutto, cosa si fa? Entro sul bar all'estate? No, trovo che sia anche più bello fuori. No, perché quando c'è tanta gente, se c'è il momento in cui c'è tanta gente, se non trovano posto a sedere, così la gente va da altre parti. Secondo me riduce c'è anche il momento di essere insieme a altre persone, persone strane, magari fare nuove amicizie e questo fa tanto alla comunità. Credo che manchi un po' di idea comune di condivisione e di rilancio probabilmente dei servizi e degli obiettivi che vogliamo darci come città. Bisogna incentivare un po' l'attività commerciale perché altrimenti il centro rischia di morire. Certo è che il cuore della provincia dolomitica vive da anni un andamento tendente al declino per quanto riguarda l'attrattività, con sempre meno persone a popolare le vie e molti negozi sfitti. Da qui la posizione di ConfCommercio, il cui invito è all'uso del buonsenso e alla mediazione con un dialogo civile, sottolineando l'evidenza di un trend negativo di abitabilità del centro storico che deve essere risolto con la collaborazione tra le parti perché Belluno non deve essere una semplice città turistica, ma il polo dell'offerta del turismo dell'intera provincia. Non funziona in questa maniera, c'è solo un incattivimento da una parte e dall'altra. Vivo in centro di Belluno e ho visto che effettivamente c'è meno gente. È un effetto domino. Se cominciano ad aprire negozi, se c'è gente, bene, parte tutto. È l'effetto domino. Dobbiamo farlo partire in qualche maniera con un'attrattività.